Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Se lo avessero fatto, se lei avrebbe accettato di incarnare questa che ha descritto, credo molto bene, come una destra? Intanto volevo ritornare su un punto che lei ha evidenziato che mi sembra importante. Perché io credo che lei ha parlato di una PD che in questo momento rischierebbe di essere diviso su una mia candidatura. Ma il PD è diviso in questo momento, è diviso tra riformisti e un PD molto più schiacciato sulla sinistra. Quindi io non credo che questo problema il PD non lo debba affrontare. Può decidere di affrontarlo in Lombardia con l'appoggio alla mia candidatura da parte dei riformisti o può decidere di rimandare al congresso dove già si delineano delle candidature diverse. Quindi c'è un problema di fondo che il PD deve affrontare. Io mi auguro che lo risolva perché abbiamo bisogno di un PD forte nel nostro paese. Quindi questo è sicuramente un punto importante. Vengo alla sua domanda. Guardi, lei ha toccato anche qui un punto che per me è stata una scelta di fondo difficilissima e faticosissima e dolorosa. Mi sono fatta anch'io questa domanda. Avrei accettato? E me la sono fatta davvero per tanto tempo. Ma la mia risposta è no, perché davvero in questo destra centro non mi ritrovo. Ed è per quello che sto cercando comunque di continuare a tenere aperto un dialogo con il PD. Vediamo subito questa storia. Davide adesso ve l'annuncia. Ma volevo chiederle completamente, Letizia Moratti, il fatto che dentro il PD ci sia qualcuno che nicchia e potrebbe anche dare un'indicazione di voto nei suoi confronti e che sia più o meno la stessa parte del partito che poi indica Elie Schlein come candidata per la segreteria nazionale. Non le dice niente. Cioè fra lei e Elie Schlein c'è una grande differenza non soltanto di storia anagrafica, ma anche, mi viene da dire, di collocazione sociale, di storia personale, di patrimoni. Forse preferisce Bonaccini alla fine. Ma guardi, lei ha toccato proprio il punto importante. Quindi ci sono due anime in questo momento nel PD. Quindi il PD secondo me ha la necessità di scegliere. Poi io direi anche un'altra cosa. Io credo che si debbano in un momento così critico per il Paese, in un momento in cui ci misuriamo dopo una pandemia che non è ancora finita, nonostante queste posizioni, l'assiste del governo, la pandemia non è finita. Ci misuriamo con una guerra che è alle porte dell'Europa. Ci misuriamo con una caro energia che pesa sulla vita delle famiglie, delle piccole e medie imprese. I cittadini hanno bisogno di risposte concrete. Quindi il punto è questo. Uscire dagli schemi, vedere dove ci sono delle convergenze, per andare a risolvere problemi concreti e davvero difficili che le famiglie stanno... Allora guardi, le facciamo vedere a lei e anche alla professoressa...